e ben ritrovati allo spazio pink abbiamo riportato il silenzio in studio anche se insomma il casino per così dire quando è bello e quando si parla di calcio è sempre bello devo dire la verità volevi anche tu e beh dai dai perfetto ci voleva un tocco bianco rosso come sono vestita benvenuta Isabella Cardone innanzitutto buon pomeriggio ciao Barbara e soprattutto volevamo un tocco femminile a questi amici bianco rossi e allora potete andare in vacanza tra virgolette le ragazze sono già praticamente quasi tutte tutte partite sono tornate a casa per le vacanze di Natale perché il Natale se lo possono godere quest'anno beh credo che abbiamo fatto un 2017 strepitoso in parte l'avevo sempre detto anche quando i risultati diciamo non arrivavano che queste ragazze avrebbero sicuramente sarebbero state sicuramente delle protagoniste in questo campionato di massima serie devo dire che le tre vittorie ma soprattutto la vittoria col Verona insomma ci fa vedere la classifica finalmente con un bari femminile davvero forse inimmaginabile qualche anno fa forse frutto anche di anche qualche amarezza e qualche dispiacere ma ci ha permesso insomma di ricostruire un'idea una squadra e comunque dei valori che queste ragazze stanno portando avanti con entusiasmo e con una forte determinazione stanno mettendo su insomma un campionato che sarà comunque difficile perché oggi siamo diciamo possiamo dirlo in questo momento siamo salvi siamo fuori dalla zona play out e soprattutto siamo settimi e a tre punti fondamentalmente dal quarto posto dirlo ci fa venire un po' i brividi però dopo un inizio di stagione che voi sapete è stata comunata insomma è terminata con questa fantastica rimonta nel campionato di serie B che ci ha poi permesso di a Pescara di conseguire la promozione e poi un inizio di campionato un po' difficile incontrando le big esatto è stato quello diciamo eravate preparate a questo avete avuto la botta iniziale come ho detto sempre anche alle ragazze no il benvenute anzi il bentornate in in serie A una serie A cambiata una serie A più matura una serie A con più squadre decisamente forti con dei nuovi innesti come ad esempio la Juventus e società che obiettivamente si stanno ricreando no società soprattutto maschili che stanno acquisendo anche società femminili insomma il mondo del calcio femminile sta decisamente cambiando no Isabella però è vero che lo sprint finale è stato davvero pazzesco e sicuramente una bella bella inizione di fiducia alle ragazze ora sono un gruppo forse quasi alla fine del girone di andata sono un gruppo ben compatto guarda io credo che il gruppo il gruppo di queste ragazze è sempre stato e noi siamo partiti proprio da da questa da proprio da questo da questa idea l'anno scorso la promozione in serie A non è stata così facile come può sembrare perché ne avevamo vinte quasi tutte sai quando si vince si pensa di essere di essere diciamo infallibili la verità è che l'anno scorso vincere ogni partita era un peso che una squadra giovane a me stupiva ogni volta io e il mister del miglio dicevamo sempre una squadra volevamo una squadra giovane abbiamo voluto una squadra giovane ma sapevamo che l'insidio di una squadra giovane è proprio la continuità queste ragazze ci hanno stupito l'anno scorso e devo dire che ci stanno stupendo anche quest'anno perché anche nelle difficoltà che ci sono state anche all'interno proprio di un gruppo che insieme sta cercando di punto di conquistare ogni ogni momento di una partita ogni attimo di un allenamento una determinazione anche ieri le baresi che sono rimaste qui in zona sono erano ad allenarsi a fare un allenamento prettamente fisico quindi senza pallone insomma vuol dire che c'è una voglia di non aver raggiunto nulla ma anzi è un trampolino di lancio per raggiungere questo risultato importante a fine stagione perché le ragazze noi vogliamo vogliamo rimanere in questa categoria perché come hai detto tu quest'anno probabilmente è un anno noi lo chiamiamo l'anno zero perché società come lo stesso Sassuolo o la Juventus in primis stanno facendo bene ma stanno facendo bene anche le società come noi come il Brescia che hanno un'idea e stanno cercando di portare avanti con i propri mezzi disgrupparla nel migliore dei modi cercando di guardare il lato positivo di essere dei direttanti ma il lato ambizioso di voler raggiungere la stessa organizzazione la stessa voglia di fare calcio di queste grandi società maschili organizzazione alla base della PINC lo abbiamo sempre detto e sottolineato anche perché senza organizzazione senza un ordine all'interno della società poi è difficile vivere serenamente tutto il resto diciamo che si sono creati si sono combinati una serie di elementi positivi che poi stanno portando a questi risultati è tutto in salita come dicevi tu non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza si riparte quando? si riparte il 3 gennaio perché è il primo allenamento dell'anno nuovo le ragazze rientreranno tutte tra il 2 e il 3 il 13 gennaio c'è quest'altra importante scontro in casa col Tavagnacco una squadra fruilana che insomma terza forza del campionato è una squadra che ha la nostra ex Lana Cleland che diciamo noi abbiamo introdotto, lanciato in Italia ma da subito avevamo visto le sue potenzialità lei ha voluto scegliere, ha scelto all'epoca il Tavagnacco si è legata a questa società fruilana che devo dire con una presidenza importante nel senso che è una squadra da tanti anni che sta facendo bene coglie le giovani promesse perché ricordiamo che la stessa Lana è comunque giovanissima le VINC non sono da meno, sono ragazze veramente molto giovani qual è la media d'età? Neanche 20 anni credo intorno ai 21 anni insomma ce lo alza come si suol dire la nostra Francesca Soro e la nostra Jenny Piro e Marina Rogazione le veterane della VINC le nostre tre veterane che però devo dire la verità in questo, loro in questo periodo stanno dando quel contributo in più a loro il plauso di credere nel progetto della VINC nel progetto che abbiamo voluto da tanti anni loro ci sono da tanti anni Marina è cresciuta nella VINC e forse è la giocatrice del 2001 è stata con noi dalla fondazione da sempre ci saranno nuovi arrivi? beh guarda abbiamo, sono sincera abbiamo tentato di alzare un livello come dice il nostro mister D'Emilio nel senso che se dobbiamo far venire qualcuno ma rinforzare questo gruppo deve avere innanzitutto delle caratteristiche che siano idonee perché inserire delle ragazze nuove all'interno di un gruppo così affiatato non è mai semplice non è stato facile anche perché siamo andati ovviamente nel mercato estero non è stato facile per mille motivi ma senza diciamo crediamo in queste ragazze l'abbiamo sempre sostenuto io in primis le abbiamo scelte e allora posso così la VINC rimane quella e per fortuna ce la faremo ce la faremo ce la faremo e siamo veramente contenti in questo momento siamo già concentrati al prossimo obiettivo che è la partita col Tavagnacco ma avremo modo di parlarne avremo modo di parlarne e di invitare anche tutti i nostri telespettatori tutti i tifosi all'Antonucci di Bitetto intanto io auguro buon anno a te Isabella ma anche a tutte ovviamente a tutto lo staff non solo alle ragazze perché ci sono anche c'è qualche maschietto permettimi un minuto solo per ringraziare Telebari ringraziare tutti voi perché è un partner davvero che noi si sentiamo più di un semplice partner diciamo media ma sono degli amici che hanno creduto nella nostra idea di calcio di poter fare calcio anche se siamo delle donne e farlo bene soprattutto in maniera pulita e ti ringrazio delle belle parole soprattutto degli spazi delle opportunità che ci date perché siamo coinvolti tutti insieme in questo progetto e se quello che abbiamo realizzato quel poco o tanto che abbiamo realizzato lo dobbiamo anche a voi avete fatto tutto voi grazie Isabella Cardone responsabile delle Pink buon anno buon anno a tutti e sempre forza la vari femminile grazie anche a voi per averci seguito buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti questo programma è offerto da Cardascio Business Solutions chiedi a chi se ne intende De Bartolomeo Enterprise l'agenzia immobiliare dei calciatori e degli sportivi Car Service Bari nel cuore di Bari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti